Le persone che attraverso il Mediterraneo sono prima di tutto delle persone che hanno subito violenze di ogni genere e non sono dei numeri. Molto spesso sentiamo dire dagli slogan e dai messaggi politici, queste persone vengono qui, ma questi qui sono dei turisti, ma questi qui, no, questi qui sono prima di tutto delle persone. Il tema dell'accoglienza, dell'immigrazione, anche di quanto è accaduto con la nave Aquarius, ha suscitato molte proteste ma anche indignazioni. Ad Arezzo, durante l'iniziativa Convivi Arezzo, è arrivata la testimonianza di chi in quella nave, per conto di una ONG, c'è stato per sei lunghe settimane. Io fortunatamente sono stato in un periodo, tra virgolette, fortunato, nel senso sono stato tra la bufera del magistrato Zucchero che criminalizzava tutti, anche i partecipanti del SART Team, del Search and Rescue Team, come conniventi con gli scafisti, cosiddetti scafisti, e quello che è successo dopo l'avvento del nuovo governo. Quindi non ho vissuto quel momento particolare, so soltanto che posso testimoniare semplicemente che le persone che salivano a bordo spesso si inginocchiavano e pregavano e baciavano terra e quindi la nave Aquarius per essere stati salvati. Io so soltanto questo, ho visto persone piangenti, ho visto proprio la sofferenza, ho visto persone eritree e forse non tutti gli italiani sanno che in Eritrea, credo anche attualmente, ma comunque sicuramente fino a poco tempo fa c'era il servizio militare ad oltranza, soltanto fino a 60 anni ci si liberava e quindi è un paese in guerra, è stato in guerra fino a pochissimi giorni fa e così come la guerra c'è in tantissimi paesi africani. Quindi io e i miei compagni abbiamo visto il terrore negli occhi quando raccontavano quello che hanno vissuto, dai campi di sterminio ai campi di lavoro in Libia, lavoratori che hanno lavorato gratis come schiavi per ricchi libici che devono costruirsi la piscina in mezzo al deserto, chi ha in mente Dubai e i paradosse del deserto con l'acqua e le fontane può capire che cosa sto dicendo, ai racconti che parlavano appunto di questi viaggi improbabili con un'unica direzione che era l'Italia ma completamente teorica perché quando ci si mette in barca in quelle condizioni posso assolutamente dirlo con certezza che è un trauma, è un trauma per chiunque, anche noi che magari ci si può fermare in vacanza in motore a largo andiamo nel panico, figuriamoci 3, 4, 5 giorni insieme ad altre centinaia di persone fino a 180 in un gommone di 10 metri, che cosa significa? Vuol dire essere disperati, questa disperazione non la possiamo fermare perché se uno è pronto a tanto vuol dire che sta fuggendo a tanto, sicuramente non per comprare un iPhone o per comprarsi l'abbonamento a Skype, io attraverso il deserto rischio la mia vita.